Sette mesi di reclusione e 500 mila euro di multa appena sospesa per occupazioni abusive e deturpamento di un terreno del comune di Maratea, furto di proprietà comunali e violazione dei sigilli. Questa la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Lago Negro nei confronti del giovane imprenditore Renato Accardi dal 2021 assessore comunale di Maratea con delega a sviluppo aree montane, artigianato, caccia e pesca e valorizzazione delle frazioni. All'inizio del processo i reati che gli venivano contestati erano 12, alla fine 9 sono stati prescritti, per gli altri tre l'imprenditore e amministratore comunale è stato condannato con una pena ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. I fatti risalgono al 2013 quando Renato Accardi avrebbe realizzato sulle montagne Marateaote in località Tempa Pelata un impianto per l'estrazione e la lavorazione di materiali inerte per costruzioni. Secondo quanto si legge nella sentenza, l'attività sarebbe stata avviata su un'area di circa 35 mila metri quadri, sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale. L'assessore è stato condannato per aver invaso i terreni e per essersi appropriato al fine di trarne profitto del materiale inerte, derivante, si legge nella sentenza, dall'attività non autorizzata di estrazione, nonostante il sequestro disposto dal GIP di Lago Negro nel maggio del 2013. Trattandosi di una vicenda legata a beni del comune, occorre valutare se ci sono i presupposti per la dichiarazione di incompatibilità. Il sindaco Daniele Stoppelli, contattato dalla nostra redazione, ha detto non dispongo ancora degli atti giudiziari, solo dopo averli letti serenamente sarà stabilito se l'assessore Accardi, alla luce della sentenza di primo grado, può o non può continuare a ricoprire il suo incarico in giunta. Per mano il chiappetta dell'esecutivo regionale di Europa Verde, l'assessore deve dimettersi. Il nostro consiglio comunale, dice, deve tornare ad essere luogo di integrità morale e di rispetto delle istituzioni.